Un saluto a tutti i campanari di YouTube, ci troviamo a Caserta Vecchia, in provincia di Caserta, e questo è il Duomo. Abbiamo un concerto di otto campane e adesso ascolteremo per il mezzogiorno di ferragosto le suonate solenni, che sono la prima, la distesa delle tre campane mobili, e poi la suonata della seconda campana e le altre a martello. Purtroppo la suonata con tutte non è impostata e quindi non ho idea di quando sia possibile ascoltarle tutte otto, sia a scampanio che a movimento, anche perché le tre campane maggiori sono a movimento, mentre le altre sono tutte fisse. A presto! A presto! E' Spiritotico, mi todo è stata! E' la materia subjectiva è nata con tutte le famiglie di questo video! A presto! A presto! C'è un buon horrifying syent 그 A presto! A presto! E' la piena macia e il cuoone è evitato! E' un buon dell'azienda di起o! E' un buon annaccia! Ad SHATTA che si aprite una malla? E' un buon annaccia! C'è un buon annaccia! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.